L'elefante e la corda, i migliori racconti di ispirazione sulla vita. Un giorno un uomo passò davanti a un accampamento di elefanti. Guardando meglio, fu sorpreso di vedere che questi possenti animali non erano tenuti in gabbia o in catene. L'unica cosa che impediva loro di fuggire? Una sottile corda legata da una zampa a un semplice palo nel terreno. Confuso sul perché non usassero la loro forza per rompere la corda. Chiese all'addestratore perché non cercassero di scappare. L'addestratore ha risposto. Come elefanti piccoli, usiamo lo stesso sistema. Ma a quell'età la corda è abbastanza forte da impedire loro di fuggire. Crescono così, credendo di non poter mai rompere la corda, quindi anche da adulti restano fermi. In altre parole, questi elefanti potenti, magnifici e intelligenti non credevano di potersi liberare, quindi non ci hanno mai provato. Morale della favola. Le nostre convinzioni personali sono potenti oltre ogni misura e spesso dettano i nostri risultati. Possono lavorare a favore o contro di noi. Identificate le vostre convinzioni limitanti in modo da poterle contrastare.